Buongiorno, mi chiamo Guglielmo Troiano, sono Senior Legal Consultant del gruppo Digital 360. Il prossimo 22 novembre, tra le 12 e le 13.30, terrò un webinar sul nuovo regolamento europeo in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il webinar si occuperà delle principali novità che impattano su pubblica amministrazione e aziende e quindi di tutte le attività che dovranno essere poste in essere a partire sin da subito e entro il maggio del 2018, quando il nuovo regolamento sarà pienamente applicabile. Vi ringrazio.